Ciao a tutti Oggi volevo lavorare un po' con voi ai ferri Avevo già iniziato il lavoro per un campione Sto provando un punto e dei colori messi insieme per vedere se rende l'idea Io lavorerò un po' davanti a voi Spero che si veda Spero che non sentirete i rumori di sottofondo Purtroppo non riesco molto a parlare mentre lavoro Perché mi deconcentro Anche se so che ci sono signore Che addirittura mentre lavorano a maglia Riescono anche a leggere un romanzo Sono talmente ormai abituata a farlo Che possono anche evitare di guardare Ormai le mani vanno da sole Ma io ancora non riesco a farlo Per quanto io abbia padronanza nel lavorare ai ferri Non è un'attività che faccio spessissimo Per cui ancora non riesco a fare le cose mentre Mentre non guardo Comunque ho bisogno sempre di controllare il lavoro Come procede Se sto facendo bene E nulla Io non so se questo video sarà rilassante per voi Quando ero piccolina Vedevo I grandi Anzi le grandi Le signore grandi lavorare Guardavo affascinata Però non è che mi facesse tanto rilassare questa cosa Quindi non so se possa essere rilassante Il rilassamento poi comunque è soggettivo Non so se è riuscita a sentire qualche rumore Qualche suono Non so Forse avrei dovuto mettere la videocamera un po' più vicina In maniera tale che Prendesse di più il suono Approfitto di questi giorni Che in qua non c'è In quella casa è libera E ok capo il ferro Perché questo qui è 3 e mezzo Questo è 4 e mezzo Quindi Prendiamo Queste qua Quattro Queste qua Ok Trovato il quattro e mezzo Riuscite a vedere cosa sto facendo? Ditemi di sì Vi prego Non fatemi rifare di nuovo il video Che vi assicuro Che non è facile Rifare tutto da capo Dopo aver speso tempo Dopo aver speso tempo nel primo tentativo A proposito Se qualcuno di voi sentite di fare video con le reflex Mi può spiegare se esiste un modo per fare la ripresa con l'autofocus Io sinceramente non ho avuto tempo per controllare sul libretto di istruzione E ho cercato di guardare sulle impostazioni della reflex ma non sono riuscita a trovare nulla a riguardo Per cui se avete qualche consiglio Se vi intendete di ripresa video con reflex Siete benvenuti a darmi qualche consiglio Ciao a tutti sono 112 maglie ognuna di questa, solo questa, si chiama maglia per questo si chiama maglione perché è un insieme di maglie col filo nero non si vede bene oddio mi si sta spaccando la schiena a stare così curva in questo momento vorrei un cameraman che mi facesse la ripresa sarebbe il massimo sto cercando di andare un po' più lenta perché secondo me se vado normale non fa rilassare o che se io ho fredda di finire vediamo se riesco a farvi vedere non so se si vede l'ho messo a fuoco proprio precario come sempre comunque andiamo avanti adesso farò un punto che si chiama punto aggiorno ed è un punto traforato che a me piace tantissimo questo sto facendo un facsimile di come voi potrebbe essere un lavoro ho preso la lana, ho tantissima lana con me tanti colori questo l'adoro un colore che mi piace tantissimo infatti ho comprato 600 grammi di questa lana perché vorrei farmi un coordinato e già dall'anno scorso che l'ho comprata un colore stupendo credo che in questo periodo sia il colore mio preferito sì perché io non ho un colore preferito mi piacciono tutti ma in questo periodo questo nero volevo provare ad abbinarlo con il lilla dite che starà bene insieme vediamo cosa esce questa è solo una prova io prima di fare il lavoro definitivo faccio prima un facsimile perché allora il punto aggiorno la spiegazione un diritto ok ci siamo quindi sono due diritti una cittata una cavallata semplice ok ok allora due maglie diritte una cittata e una cavallata semplice due diritti una cittata e una cavallata semplice due diritti una cittata e una cavallata semplice due diritti una cittata e una cavallata semplice due diritti, una gettata 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 e una cavallata semplice l'avevo fatto giusto in mezzo due diritti, una gettata e una cavallata semplice vai dirì di un'accettata e un'accabelata semplice mi sa che è gigante, mi sa che devo scuggire due diritti e un'accettata e un'accabelata semplice due diritti e un'accettata e un'accabelata semplice e due diritti e un'accettata e un'accabelata semplice due diritti e un'accettata e una cannata semplice due diritti e un'accettata e una cannata semplice due diritti e un'accettata e un'accabelata semplice ecco fatto ora mi metto a contare 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 41, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 72, 74, 76, 78, 80 che cosa ho sbagliato? che cosa ho sbagliato? che cosa ho sbagliato? perché me ne è uscito uno? perché me ne è uscito uno? devo riscugcire perché ho sbagliato qualcosa che cosa ho sbagliato? una cosa pronta allora vediamo qua per questo faccio sempre un facsimile con un campione perché non ci sono sempre delle interruzioni ecco ho sbagliato ho sbagliato dall'inizio quindi mi sa che devo scuggire e quindi scuccio il primo ferro e lo rimetto qua così anzi faccio un'altra cosa io ricordo che comincio dal capo così mi rendo conto anche se la grandezza era giusta sembrava di sì dai io lo riscuccio lo rimetto sul gomito lo ricomincio così vi spiego anche come inizio eh questo qui eh questo qui mi troverò mai anche allora io faccio l'inizio prendo un ferro più piccolo e faccio un ferro più piccolo e faccio l'inizio su un ferro solo con due ferri perché l'inizio con due ferri fa venire un cordoncino particolare tenendo questo qui giù quindi si tiene questo filo si fa così si infila così una buona volta infilato si tiene così il filo si infila il ferro nel filo girandorgigliato il primo ferro e si fa girare si fa uscire fuori poi questo prende quest'altra parte il filo lo giro e lo rimetto sul primo ferro e quindi faccio così allora due quattro cinque sei sette otto nove dieci undici dici dotici dodici tredici quattordici quindici setti otti vado arrivare a 112 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,